Buonasera a tutti, siamo non solo reclusi ma ormai anche sommersi da una congerie di decreti di urgenza e di decreti del Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto ai quali probabilmente molti si chiedono quale sia il contenuto e quale sia la ragione in fondo di tutto questo susseguirsi di una normativa che crea non pochi problemi interpretativi, soprattutto li crea nel settore del lavoro, nel settore della produzione. Un breve flash sull'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato approvato tra grandi incertezze, resistenze da una parte della Confindustria e delle associazioni imprenditoriali, questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che cosa dispone? Dispone in primo luogo la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, salvo quelle contenute indicate in un allegato, l'allegato 1 allo stesso decreto, che in verità sono un elenco piuttosto corposo di attività che sono state ritenute di prioritario interesse nazionale. Le imprese che in teoria sono una maggioranza per le quali è oggi prevista la sospensione dell'attività possono però completare le attività necessarie alla sospensione fino al 25 marzo, compresa le attività relative alla spedizione e una merce in giacenza. Quindi un primo provvedimento riguarda le imprese, il secondo provvedimento riguarda invece le persone fisiche, quindi non solo i lavoratori ma in generale chiunque che ha finalmente, potremmo dire dato che il precedente decreto parlava di evitare di uscire, qui invece viene formulato in modo giuridicamente corretto e il decreto reca un vero e proprio divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi sia con mezzi di trasporto pubblici sia con mezzi di trasporto privato in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano. Quindi non quello di domicilio o di residenza, non c'è più il diritto di far ritorno, ma c'è un divieto di muoversi dal comune nel quale attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. Quindi come vedete finalmente il governo si è deciso ad adottare un divieto molto più stringente e probabilmente questa decisione è stata presa per la constatazione della insufficienza delle misure adottate finora per contenere il contagio. Esistono però dei temperamenti che riguardano le attività produttive e quindi in primo luogo restano nella possibilità di essere regolarmente svolte tutte le attività produttive che siano o meno riconducibili a quelle elencate nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, purché siano organizzate in modalità di stanza o di lavoro agile. Quindi tutto ciò che può essere svolto senza implicare il movimento fisico dei lavoratori continua a essere, diciamo, possibile essere lecito. In secondo luogo anche sono, restano legittime oltre le attività elencate, questa volta da svolgersi anche in presenza, pensiamo a tutto il settore manufatturiero per quelle che sono le attività indicate, elencate nell'allegato 1, anche tutte le filiere produttive che sono essenziali a queste attività elencate nell'allegato 1, nonché quelle attività che sono fondamentali per la filiera produttiva dei servizi di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali. Quindi pensate appunto a qualsiasi cosa vi venga in mente, dai trasporti alla logistica, eccetera, eccetera. In terzo luogo chiaramente le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi pubblici essenziali, possono essere svolte, restando comunque ferma la sospensione dell'apertura di tutti i musei e luoghi della cultura e dei servizi che riguardano l'istruzione se non siano erogati a distanza o comunque da remoto. E ancora sono consentito lo svolgimento di tutte le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, e inoltre le attività degli impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo incidenti, pensate agli alti forni. E infine è consentito lo svolgimento delle attività dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, con la preventiva autorizzazione del prefetto della provincia dove sono ubicate le attività produttive.